Questa è l'operazione Kingslayer. Ascoltate. La nostra zona operativa è la Bolivia. Giungle intricate, montagne gelide e distese salate. Se non vi guardate le spalle, ci lascerete la pelle. Il bersaglio è il cartello della droga Santa Blanca. Il loro network si fonda su paura, violenza e intimidazione. Dovrete distruggerli dall'interno. Destabilizzare ogni aspetto delle loro operazioni. Produzione, contrabbando, influenza e sicurezza. Così li metterete in ginocchio. Avete totale autonomia. Scegliete i bersagli. Decidete come eliminarli. Dovete solo procedere. Raccogliete dati. Scoprite i loro metodi e quali sono le figure chiare. Poi distruggetele. Come se non bastasse, l'esercito locale, l'Uridad, è sul libro paga del cartello. Ma ultimamente è impegnato contro un gruppo di ribelli, Kataris 26. Volete sopravvivere? Questi spiantati male equipaggiati sono i vostri nuovi migliori amici. Questi spiantati male equipaggiati sono i vostri nuovi migliori amici. Che culo, ho sbattuto conto delle risorse da marcare. Ho fatto un volo con la moto, assurdo, viene con caldo. Intanto non mori mai. Ma dove te lo stai passando, Red? A passeggio. Lo devi interrogare e basta. Facciamo due passi insieme. This is Sparta! Bravo! 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 Molto bravo! Beh, che devi fare? Vado ad andare a mangiare, andrei a staccare. E allora... Chiudi. Chiudi! Direttamente a cosa sull'elicottero? Sì, dovrei aprire il gioco un attimo. Sì, sì, fai così. Allora, le rinanzerò precipita. Stai precipitando un serio, BASTERDO! Ho riflesso i comandi. Vichia, panico. Cosa fai qua in c... Interpio? Non uccidetemi, por favor! Ho una famiglia! Il codice della fabbrica di cocaina. Qual è? Ho due bambini. Sono piccoli. I miei ciclitos, Gustavo e Felipe. Ho delle foto. Ve le mamme di... No, non voglio vedere le tue foto, tu dammi. No, non voglio vedere. Ho due bambini. Sono piccoli. I miei ciclitos, Gustavo e Felipe. Perchè la interrompi? Sono piccoli. I miei ciclitos, Gustavo e Felipe. Ho due bambini. Sono piccoli. I miei ciclitos, Gustavo e Felipe. Ho delle foto. Ve le mostro. No, non voglio vedere le tue foto, tu dammi il codice d'accesso e basta. Qualche problema a vedere? Non mi piacciono i bambini, per caso. Cristo, vuoi tornare da Gustavo e Felipe? Dammi quel numero. Ok, ok. 6, 5, 4, 3, 7, 5. Ecco, giuro. Oh, abbiamo il codice. Se invio un virus da caricare nel software di autorevole della patria, danneggierà i processi chimici in modo quasi impercettibile, rovinando la coca e bloccando le macchine se cercheranno di... Oh, ho saputo... Oh, ho saputo. Oh, ho saputo. Oh, ho saputo. Oh. ne ho contate 5 cosa vuoi che succeda con l'UALAB? vai aspetta aspetta mitragliere mi devo mettere io ecco ora si che siamo seri cazzo vai 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 eh non devi incastrare non c'è posto per passare qua cazzo questa miglia ok provo a far così questa si che è un violenza cazzo divertiti dai dietro dietro avanti un altro dietro a sinistra ma li vedi? a sinistra quella è la destra e un altro sotto 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 a sinistra sotto l'edificio a sinistra eccolo davanti due fuori qua fuori qua fuori qua oh merda perfetto quanto vale questo ricortero? no so però portalo vai cosa? che è successo? oh che cazzo hai fatto? che cazzo hai fatto? che cazzo hai fatto? cosa ha fatto l'è lì? si bella beh hai fatto fallire la missione non importa ma tu lo vedi lei che sta facendo? l'è lì? si no ho visto che ha fatto un salto strano ok oh cazzo doveva sgamare quello lì? ma si dai morto morto merda mi è caduto un elicottero in testa ma sono ancora vivo morto mi è caduto un elicottero in testa perchè l'elicottero è acceso non c'è nessuno con comando dov'è? l'elicottero? oh l'elicottero l'avete perso come non c'è? non c'è non c'è l'ho preso non so perchè me lo segnala non è qua guarda le casse d'armi contenuto provincia casse d'armi e casse d'armi c'era c'era scritta una casse d'armi ma in realtà non c'è c'è non è non c'è ok chi cazzo sta guidando quell'elicottero raga? nessuno oddio 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 guardalo è morto salite vabbè da candy è già sull'obiettivo da bravo da bravo oh cazzo è qua scendi 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 ci siamo una battuglia umidata hanno panteria e un portone radio sul porto questa roba farebbe comodo eric non c'è tutti gli autisti eh che infolle corri forest corri eh non gli spari cazzo ora si ferma perchè? corre a filaci di noi ho avvistato un sicario vicino al camion messaglio a terra tutto ok tutto ok spero che ci sia abbastanza benzina che c'è? cosa è? che c'è? ma che cazzo? qual'è il problema? ma che cazzo c'è? cosa hai fatto? io ho niente sto gioco di merda